Sono Sara Cicchelli, sono l'amministratore delegato della società Abrex SRL. Il corso di oggi è stato in realtà un corso molto interessante, nel mio caso per rinfrescare delle idee su dei concetti che avevo già appreso. E comunque è stato un corso utile soprattutto perché ci ha dato delle linee guida basi ed essenziali su quelle che può essere un'attività di marketing che un'azienda dovrebbe fare e deve fare per iniziare a promuovere il proprio progetto, la propria attività o il proprio marco. Quindi in pochissime ore sono state date delle linee guida puntuali e precise su tutta una serie di meccanismi che sono complementari e fondamentali per un'azienda che si vuole approcciare al mondo del marketing e della pubblicità e che si vuole far conoscere soprattutto online, che è diventato forse il mercato essenziale per molte delle nostre aziende.